A meno di una settimana dalla mobilitazione regionale dei sindacati e delle organizzazioni del comparto della pesca, il Consiglio europeo ha approvato il pacchetto che, tra le altre misure, prevede lo stop della pesca strasciuga a partire dal 2030. Solo l'Italia, con il ministro Lollo Brigida, ha votato contro il provvedimento sostenuto invece dagli altri 26 paesi. Il governo italiano si è opposto alle conclusioni del Consiglio europeo, evidenziando come le misure previste vadano a colpire in maniera grave e ingiustificata un settore strategico per l'economia siciliana. La pesca strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia con 2.100 unità, 7.000 lavoratori, il 30% degli sbarchi e il 50% dei ricavi. In Sicilia poi rappresenta la fetta maggiore del pescato con 15.000 tonnellate di rese e ricavi per 134 milioni di euro. Bloccare la pesca strascico nell'isola vuol dire cancellare l'intero settore, hanno evidenziato le organizzazioni di categoria. A Sciacca, su 120 imbarcazioni, sono 75 quelle che praticano la pesca strascico. Un vero e proprio allarme, dunque quello che si è generato nel comparto e che ha portato la classe politica regionale e nazionale a sostenere le esigenze delle marinerie italiane, esprimendo netta contrarietà al piano d'azione dell'Unione europea. L'auspicio è che la Commissione tenga conto della posizione dell'Italia perché il piano, così come elaborato, ribadiscono anche oggi le organizzazioni di categoria, rischia di mettere fuori gioco gran parte della pesca italiana. Oltre allo stop della pesca strascico ad essere contestate, sono le reti delle maglie più ampie, l'obbligo di pescare più lontano dalla costa, una diversa composizione delle attrezzature e taglie minime dei pesci. Una politica della pesca sostenibile, così viene rappresentata Bruxelles, che però avrà pesantissime ripercussioni per gli operatori del comparto che inevitabilmente proseguiranno le azioni di protesta.